Non ci si ferma qui, dobbiamo guardare oltre, sforzarci di vedere oltre l'Oriente e l'Occidente. Essere sicuri di avere la forza, di proteggere i nostri sogni. Non è per sbaglio o per casualità che la tua scoperta realtà diventerà. Non ci si ferma qui, non stiamo ad occhi chiusi, proviamo con il cuore e con la mente a volar lontano. E a credere nelle nostre idee, e a giocare con le nuvole. E quando meno te lo aspetti, aprirai gli occhi e capirai che non c'è differenza tra il sogno e la realtà. Grazie a tutti.